Universalmente considerata come l'icona dei fuoristrada, la Jeep è un veicolo che, da lontano 1941, è dotata di una forte identità che ha contribuito all'estrema popolarità del suo marchio, spesso Jeep è infatti diventato sinonimo di fuoristrada a conferma del suo indiscusso ruolo. Gli albori della storia della Jeep La statunitense casa produttrice è stata da sempre incentivata a realizzare un veicolo che fosse in grado di conquistarsi un posto di rilievo nell'universo offroad, per colmare una nicchia che si presupponeva avrebbe aumentato la sua espansione. Nata come mezzo di locomozione quasi esclusivamente funzionale, robusto e capace di affrontare qualsiasi percorso ed ogni possibile sfida, la Jeep fu concepita dapprima come veicolo militare nel 1941, come evoluzione della Willis, ideata nel 1908 da John North Willis. In quegli anni l'esercito degli Stati Uniti era alla ricerca di un mezzo di ricognizione, che si concretizzò nella realizzazione dei primi esemplari di 4x4, meglio conosciuti come Jeep. La vettura era caratterizzata da specifici requisiti, capacità di carico pari a 272 kg, altezza inferiore a 91 cm, passo minore di 190 cm, motore a velocità compresa tra 5 e 80 km all'ora, trazione integrale, carrozzeria rettangolare, punto e virgola parabrezza mobile, ripiegabile, tre sedili, fari oscurabili, peso totale minore di 590 kg. Evoluzione del marchio. La maggiore clientela attratta dall'aspetto della carrozzeria, anche se meno interessata a percorrere strade sterrate. Il trend del fuoristrada, nato negli USA, è stato pertanto capace di arrivare a diffondersi anche in Europa, dove questo genere di vetture era decisamente poco conosciuto. La Jeep Wrangler si è confermata come una studiata contaminazione tra un fuoristrada e una vettura cittadina, offrendo prestazioni rispondenti a entrambe le esigenze. Il risultato è stato quello di una macchina dotata di requisiti dallo Sports Utility, contando sull'eccellente tecnologia costruttiva, improntata su un'estrema solidità e su linee classiche ispirate al modello tradizionale. La Jeep ha raggiunto una sempre maggiore popolarità, arrivando a conquistare un pubblico di ogni tipo verso il futuro. Nel 1986 il marchio è stato rilevato da Chrysler, che, con indiscussa lungimiranza, ha apportato alcune modifiche strutturali alle parti costitutive del motore e della carrozzeria, fino a ottenere una vettura al passo con i tempi. La chiave del successo della Jeep è da ricercare anche e soprattutto negli incontri che si sono susseguiti con aziende automobilistiche, capaci di rispettare la tradizione senza escludere le innovazioni tecnologiche necessarie per migliorare le potenzialità del veicolo. Agli inizi del 2000, con la nascita del gruppo FCA, la condivisione stilistica e ideologica del marchio ha preparato la strada per profonde innovazioni in ambito produttivo, che hanno consentito una sempre maggiore affermazione del brand a livello mondiale. Nel 2014 ha avuto inizio la produzione italiana delle vetture che sono entrate a ragione in un mercato particolarmente vario e sempre più concentrato su vetture a guida alta.